Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla bottega didattica per il fai da te con le tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza. Volevo presentarvi, con questo breve video, Padlet, non tanto Padlet, quanto delle nuove funzionalità che sono state introdotte in Padlet, che possono essere interessanti per il suo utilizzo didattico, cioè l'introduzione di sistemi di votazione, di espressione del proprio gradimento, che sono molto facili da utilizzare, che comunque voglio mostrare per far capire come si possono abilitare queste funzionalità. Padlet è ormai utilizzatissimo da tutti i docenti di tutto il mondo e quindi può essere interessante scoprire queste nuove funzionalità. Potete vedere anche la mia immagine, non la mettevo mai perché, essendo io molto carino, ciò potrebbe distrarvi dal seguire il video e quindi la tolgo immediatamente. Bene, ho aperto un Padlet, questo è il modello, un proprio wall, qui ci sono dei lavori della mia classe, se sono composizioni di scrittura creativa, dove non raccontare un mito delle origini, supponiamo che io, per un lavoro del genere, oppure potrebbe essere anche una discussione con gli studenti, potrebbero essere dei testi che devono leggere, insomma, tante sono le possibilità di utilizzare Padlet, voglia dare agli studenti la possibilità di esprimere un loro giudizio. Vedete, sono entrato nel menu, una rotellina, e vado in fondo. Prima di tutto devo abilitare, appunto, reazioni, reaction. Chiedo scusa per il mio inglese come al solito. In questo modo, vedete, automaticamente mi compaiono quattro possibilità. Il like, la votazione, le stelle, posso votare con una o cinque stelle, e il voto vero e proprio. Vediamoli una per una. Clicco sul like, salvo, e come vedete compare un like. Lo studente e gli studenti possono esprimere il loro piacere o dispiacere per il post cliccando su questi post. Posso anche utilizzare un altro sistema, per esempio, il mi piace. Mi deve stare attenti perché quando io cambio, devo decidere quale sistema utilizzare. Perché poi, se cambio, dopo, vedrò cancellati tutti i risultati delle precedenti espressioni di gradimento da parte degli studenti, dei colleghi, insomma, del mio pubblico. Naturalmente, se è una cosa che riguarda i miei studenti, devo accertarmi che solo loro possono entrare in questo Padlet e che i commenti siano abilitati da parte di chiunque ha il link, per esempio, se lo hanno solo i miei studenti. Oppure possiamo mettere una password, insomma, sono le solite opzioni di configurazione della condivisione con Padlet. Bene, andiamo a vedere come funziona il voto, ma, insomma, è una cosa, è un'esperienza molto semplice. Possiamo, ecco, mettiamo a Eleonora, mi piace, a Poverantea, mi dispiace. Naturalmente, posso anche cancellare, invertire, non cancellare. Torniamo ancora alle varie opzioni. Le stelle sono più interessanti perché permettono di graduare in qualche modo la nostra valutazione. Posso dare tre stelle, posso dare cinque stelle, posso cancellare le stelle che ho dato. Dopo aver lasciato liberi gli studenti di valutare e esprimere il loro gradimento con uno di questi tre strumenti, possiamo anche decidere di assegnare una nostra valutazione usando Grade, che permette di utilizzare una scala numerica, in questo caso è a 100, noi la riduciamo a 10, quindi il tradizionale voto in scala decimale, e il nostro giudizio. Quindi salvo, chiudo, e a questo punto, vedete, ho la possibilità, cliccando su Grade, di inserire un giudizio numerico, espresso in questo caso in decimi. Mettiamo bei voti, 10 e 8. Anche in questo caso posso correggermi cliccando su Ungrade. Naturalmente è opportuno, se vogliamo dare questo giudizio, disabilitare la possibilità per gli studenti di commentare, altrimenti si mettono tutti quanti 10 e il gioco è finito. E naturalmente quando noi decidiamo, se lo vogliamo fare, di esprimere il nostro giudizio in questi termini, dobbiamo tener conto che cancelleremo tutta l'espressione di gradimento degli studenti. Naturalmente sono possibili tantissimi altri usi, rispetto a quello molto tradizionale che io ho fatto in questo video, e con questo esempio, il padre per la sua forma così semplice è molto creativo, insomma, dà la possibilità di soddisfare tante esigenze. Bene, solo 5 minuti, per me è pochissimo. Vi lascio e vi auguro una buona giornata.